Ma adesso iniziamo con degli interventi che sembrano fantascientifici, ovvero gli interventi di chirurgia fetale. Vediamo di che cosa si tratta con Silvia Zerilli, poi torniamo in studio. Hanno poche settimane di gestazione, bambini non ancora nati, spesso con diagnosi di patologie gravi. È lì che interviene la chirurgia fetale e poi quella neonatale. Tantissimi casi alla clinica Mangiagalli di Milano, alcuni rari. Come quello di una bimba che chiameremo Sara, ancora in pancia, si è scoperto essere affetta da ernia diaframmatica, una malformazione della membrana che separa l'addome dal torace, un foro attraverso cui gli organi addominali risalgono e occupano la gabbia toracica, comprimendo i polmoni, che nel feto hanno invece bisogno di spazio per crescere. Se il polmone alla nascita arriva compresso, la sopravvivenza è a rischio. Dopo controlli accurati, si decide di operare durante la gravidanza. Il primo intervento, al settimo mese. Se partiamo da possibilità molto basse, dell'ordine del 10-15%, intervenendo durante la gravidanza, le possiamo aumentare fino al 50-60%. Dopo i controlli è imprescindibile, spiegano alla Mangiagalli, il confronto tra tutti gli esperti, dall'anestesista all'ematologo, dal genetista al pediatra. Un approccio corale che verrà seguito per tutto il percorso. A circa 28 settimane, Sara affronta il primo intervento. Prevede l'introduzione a livello della trachea del feto di un palloncino. Inserire un palloncino all'interno della trachea permette al liquido di rimanere all'interno del polmone e accumularsi all'interno del polmone. In questo modo lo distende, lo fa crescere di più e contrasta parzialmente la pressione e la compressione degli organi addominali che sono risaliti nel torace. Si utilizzano degli strumenti di circa 3 mm di diametro. Sono degli aghi che permettono di entrare all'interno della cavità uterina, di poi collegare una telecamera e quindi guardare all'interno della cavità uterina e riuscire ad entrare attraverso la bocca del feto, entrare a livello della trachea, inserire il palloncino. Che a 34 settimane verrà rimosso. Negli ultimi 3 anni abbiamo trattato circa 25 casi di ernia diaframmatica. I genitori di Sara hanno scoperto con sollievo che alla Mangiagalli, in Italia, si eseguono operazioni simili. Inizialmente ci era stato proposto di andare all'estero per l'intervento con il palloncino in trachea. Per fortuna ho scoperto questa realtà che è Milano. Sta andando tutto bene, per fortuna, e siamo molto molto contenti. Sara nasce. Appena nasce, la nostra equip di neonatologi deve garantire la pervietà delle vie aeree e rianimarla in sala a parto con tutte le strumentazioni. In questa sala è una terapia intensiva neonatale, quindi stabilizziamo Sara. Con il chirurgo pediatra concordiamo il momento dell'intervento chirurgico. Il chirurgo entra in gioco quando il bambino è in condizioni stabili. In questo caso è stato dopo due giorni. Sara ha subito un'operazione dove abbiamo dovuto ricostruire questa parte che mancava, che era il diaframma di destra. Abbiamo dovuto riportare gli organi in sede, nello specifico il fegato, e cercare di ricostruire il diaframma, che in questo caso mancava, per cui abbiamo dovuto utilizzare delle protesi che comunque consentiranno a Sara di crescere. In questo centro abbiamo operato bambini che pesavano 500-600 grammi, grandi come le mie mani. Noi lavoriamo su esseri che hanno un'aspettativa di vita di 90 anni, quindi ciò che noi facciamo deve funzionare per 90 anni almeno. Meraviglioso, professore, veramente una cosa commovente.